Atto vandalico la notte scorsa e danni di un camion dell'associazione APAS di Paternò che viene impiegato per trasportare il cibo da destinare al servizio di banco alimentare offerto dai volontari. Qualcuno, facendo accesso all'interno della sede dell'associazione che sorge in via Giovanni Verga, ha danneggiato il telone del mezzo cassonato e spaccato alcuni contenitori termici impiegati per il trasporto del cibo deteriorabile. Abbiamo sentito il presidente Salvo Pappalardo che questa mattina si è accorto di quanto accaduto. È un atto stupido fatto a un'associazione che mette a disposizione i propri mezzi per tutta la città. Mi dispiacciono perché effettivamente noi crediamo tantissimo al recupero di certi valori che si stavano estinguendo. Se questo è un atto da ragazzi, io dico a questi ragazzi che da stupidi distruggono le cose che sono poi a disposizione di tutti i quali. Il danno ammonterebbe a circa 400 euro e le forze dell'ordine sono state informate del fatto anche se ancora non è stata presentata nessuna denuncia ufficiale. Tanti messaggi di solidarietà che sono giunti all'associazione da parte di molti altri enti e da tanti cittadini.